Infortuni sul lavoro aumentati del 60% da gennaio a maggio 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La media italiana è del più 48%. Dunque il Molise è in testa alla classifica dei 1150 infortuni denunciati nei primi 5 mesi dell'anno, 432 in più del 2021. Fa sapere la CGL Abruzzo-Molise, 808 sono avvenuti in provincia di Campobasso, più 55% e 342 in quella di Isernia, più 73%. Quello pubblico, a causa in particolare degli infortuni Covid, è il settore più colpito con 204 casi, a seguire con 157 trasporto e immagazzinaggio. A conferma, osserva il sindacato, che se l'organizzazione aziendale è solo tesa ad accorciare i tempi di risporsa verso i clienti, spesso è proprio la sicurezza ad essere sacrificata. A incidere profondamente sul numero degli infortuni è anche il sempre maggiore ricorso al lavoro precario. L'80% dei nuovi contratti di lavoro sono a termine, precarietà, prosegue la CGL, che spesso significa scarsa conoscenza della professione, formazione assente ed elevata, ricattabilità di chi rischia di non vedersi rinnovato il contratto nel caso denunci problemi di sicurezza. Per il sindacato, dunque, sono improrogabili gli investimenti in sicurezza da parte delle aziende, che devono anche essere messe di fronte alla responsabilità delle proprie scelte e delle esposizioni ai rischi. Altrettanto necessario lavorare sulla cultura della sicurezza, organizzando una formazione continua che parta dai percorsi scolastici. Così com'è non è più rinviabile il potenziamento degli enti preposti ai controlli che non possono arrivare sempre e solo quando è ormai troppo tardi.